Arriva la sesta generazione per Subaru Outback, tanto spazio e design più moderno. L'Envi 300 Bus Nissan arriverà in maggio con configurazioni a 5, 6, 8 e 9 posti per famiglie e usi professionali. Defender Works V8 Trophy, edizione speciale Land Rover per veri appassionati. Trazione integrale, dimensioni maggiorate e cambio automatico per una velocità massima di 193 km l'ora. Il DNA della sesta versione della Cross Wagon di Subaru non tradisce la storia dell'Outback, cominciata nel 1985. Tanto spazio a bordo, sistemi di infotainment all'avanguardia, allestimento ricco e un design più moderno. Pensata per chi ama l'avventura, la versione 2021 offre miglioramenti soprattutto sottopelle, con un nuovo telaio e un motore benzina da 2,5 litri completamente rivisti. È una macchina nuova a tutti gli effetti, che arriverà nelle concessionarie italiane a fine marzo. Tre gli allestimenti tra cui scegliere e un'infinità di sistemi di sicurezza che ne fanno un'auto anche per le famiglie. Nissan ha presentato a Parigi la nuova versione di Envi 300 Bus, che sarà commercializzato in Italia in maggio, prezzo ancora non comunicato. Abitacolo rivisitato, massima versatilità grazie alle configurazioni a 5, 6, 8 e 9 posti, con un divanetto ripiegabile e rimovibile e con sedili abbattibili. Sotto il cofano ha un motore diesel da 2 litri con 3 livelli di potenza, 110 cavalli con cambio manuale, 150 cavalli manuale e automatico e 170 cavalli automatico. Propulsore che rispetta le nuove norme inquinanti Euro 6D. Motore con turbo compressore a geometria variabile con coppia fino a 380 Nm. Un veicolo adatto alle famiglie numerose e agli usi professionali e che, rispetto alla precedente versione, offre maggiore comfort e più spazio, ha rimarcato Dimitri Busurkin, manager di Nissan Europa. Il reparto Land Rover Classic produrrà 25 unità Defender Works V8 Trophy che daranno vita a un'emozionante avventura presso il castello di Istnor. L'acquisto di una di queste unità consentirà di partecipare all'esclusiva competizione. Sotto il cofano, motore da 5 litri V8 benzina da 405 cavalli, trasmissione automatica ZF a 8 rapporti, treni speciali e kit handling. È disponibile in versione 90 e 110 in tinta esclusiva Istnor Yellow, con cerchi in acciaio. Gli interni sfoggiano pelle nera Windsor, sedili sportivi Recaro neri con rifiniture gialle, quadrante orologio Rand Rover Trophy. La protagonista del video di presentazione è la pilota da corsa e stunt driver Jessica Hawkins. Modelli per appassionati sportivi di alto rango, ma ancora è top secret il prezzo.